A lui è forte se spingono di qua, ma se spingono da sotto non c'ha nessuna difficoltà a tirarmi su, vai giù, da qui io vado su, spingo verso il basso, adesso lui fa il doppio di fatica a venire su, è vero? Da qui se oltre a questo vado a controllare la testa, che come ve l'ho detto era fondamentale, spingo la testa verso il basso e spingo verso il basso il corpo, lui da qui non riesce più a stendere la fila, anche se è molto forte, da qui impariamo a controllare, cambia la mano, questa va giù, poi sulla qui, la sembra con sulla pancia, provare.